La Mina Vagante, emozioni inogastronomiche di Michela Pirellini Al carnevale, qualcosina di stuzzicante per San Valentino, magari ne parliamo Direi che ci sta anche una pausa rinfrescante, parlare di qualcosa di più leggero e fragrante Emozioni enogastronomiche della Mina Vagante, si chiama questa rubrica E quali emozioni possono arrivare? Solitamente dal vino, dai piatti cucinati, elaborati Ma anche dalla nascita di qualcosa, dalla nascita di un germoglio, di una pianta Ecco allora che oggi ti voglio raccontare, anzi più che raccontare ti voglio parlare del germoglio Dei germogli che possiamo fare in casa, che sono salutari, ricchi di cose utili per noi, per l'organismo Facili, immediati, emozionanti perché vedi proprio il seme che si apre alla vita Che germoglia, che mette sulle foglioline, è una cosa molto bella anche per i bambini Chi ne ha a casa sicuramente potrà farli giocare in modo sano, naturale e costruttivo Cosa c'è da dire dei germogli? Molti non conoscono questa pratica di fare germogliare i semi in acqua a casa Io l'ho conosciuta grazie a un'erboristeria che mi ha consigliato i germogli di grano In un periodo, durante la scuola, dove non riuscivo a concentrarmi molto Io sono sempre stata molto distratta per natura perché mi interesso di 1500 cose Ad ogni modo avevo bisogno di studiare per preparare gli esami, ma ero stanca Ero piuttosto stanca, sapete che la chimica non è una cosa che io amo Perciò invece di andare in farmacia mi rivolgo all'erboristeria E questo signore mi aveva consigliato i germogli di grano In realtà non si trovano freschi già pronti Gli unici germogli che siamo abituati a incontrare sulle tavole, sui banchi del supermercato Solitamente sono i germogli di soia, sono quelli più frequenti E pochi, veramente molto pochi fruttivendoli tengono qualche germoglio di crescione Qualche cosa di più particolare In realtà non c'è cosa più semplice da fare Perché se vai in un negozio di bio Ci sono proprio le bustine con i semi da germogliare E il germogliatore che te lo puoi anche fare a casa Però non conviene perché comunque se fai una produzione limitata Puoi prendere anche un vasetto in vetro come si faceva da bambini a scuola Io ho comprato il germogliatore a tre piani Perché mi piace fare su ogni piano un tipo di seme diverso E io adoro per esempio il fagiolo mungo che è la soia verde E ce ne sono molti altri come il ravanello, il crescione, l'alfalfa Che è praticamente l'erba medica E insomma ci si può sbizzarrire Ho anche germogliato i semi di girasole Che sono croccanti, grandi Ora mi sto dilungando su questo perché è la cosa che mi emoziona di più Il fatto che in tre giorni Immaginati prendere proprio dei semini Lasciarli a bagno una notte Perché così si idratano Il giorno dopo metterli in questo germogliatore Tenerli umidi e lavarli ogni giorno due o tre volte sotto l'acqua corrente Ma il germogliatore è già predisposto per metterlo sotto il rubinetto In modo da togliere eventuali muffe E se se ne formano è da tenerli bagnati Nell'arco della giornata si vede già il seme che si apre E comincia a uscire fuori questo germoglio Dopodiché in due o tre giorni, al massimo quattro Dipende anche dalla temperatura e dal clima della casa Cominciano a uscire delle foglioline, il gambo si allunga Questi germogli hanno una forza incredibile Un giorno io li ho lasciati in casa qui a Conegliano Sono andata giù in Toscana per il weekend E quando sono tornata avevano addirittura scoperchiato il germogliatore Perché loro crescono, crescono, cercano la luce Escono E tutti insieme hanno spinto via il coperchio del germogliatore Ecco, questa per me è un'emozione Questa è la vita È il germoglio che si apre alla vita, che si dà forza, che esce e fa la sua vita Hai capito? Ecco cos'è la cosa meravigliosa Ancora di più meravigliosa È che dentro a questo seme, a questo germoglio Ci sono delle sostanze nutritive incredibili Ci sono enzimi C'è energia pronta per noi Ci sono vitamine, proteine, oligominerali, minerali Che sono subito disponibili Allora perché non approfittare di creare questi germogli a casa Anche facendo divertire i bambini Mangiarli quotidianamente Perché ci sono tantissimi sistemi Non dico di cucinarli perché crudi sarebbero meglio Però sul formaggio, nelle insalate Anche addirittura dentro il pane Nelle frittate, nelle minestre Vi potete veramente sbizzarrire Anche una pasta al pomodoro con sopra dei germogli messi sopra a decorazione Abbelliscono il piatto E integrano il gusto E fanno molto bene E alla faccia di tutte quelle bustine chimiche Che sarebbe meglio buttare nella spazzatura Spero di essere stata esaustiva Sulla mia pagina Facebook Trovate tutte le informazioni e le fotografie sui germogli Se siete curiosi sapete potete farmi le domande che volete Io vi auguro buona salute fino a prossimo sabato Oggi con un Valdobiadene di OCG spumante superiore Di Cartizze Ovviamente delle colture L'azienda di Valdobiadene Che mi affianca in questo percorso E ci regala sempre queste bollicine meravigliose A me piace il termine bollicine Perché mi dà l'idea di qualcosa di brioso, di frizzante Un po' come lo sono io Ti auguro di passare un felice weekend Se non è felice che almeno sia sereno E ti prego di informarti sui germogli Perché sono veramente una cosa ben fatta Grazie per essere stato con me E a presto, ciao! Marcadocchi in radio vi ha presentato La Mina Vagante Emozioni enogastronomiche di Michela Pierallini In collaborazione con l'azienda Le Culture Vini spumanti di Valdobiadene